... del nuovo ciclo, la presentazione del nuovo allenatore del Taranto, passo la parola a Galligani, al direttore, così... Allora, avete conosciuto il allenatore del Taranto per quest'anno, è Ariano Carragani, della cui esperienza non ci sono i bisogni di presentazione. Ariano ha avuto esperienze di serie C, di serie C e di settore giovanile, in tutte le piazze d'Italia, è l'allenatore che, sul consiglio di Luca, è stato deciso dal Presidente di assumere, per le qualità tecniche che riteniamo sia migliori per guidare lo farlo del mondo. Ariano ha 54 anni. 52? 52 anni. No, sono 4 anni. Non ci sono altri problemi di Luca, per una solituzione più tecnica del futuro. Allora, noi, nella conferenza del Taranto dell'altro giorno, avevamo dato delle caratteristiche per affrontare questo campionato. L'abbiamo ritrovato nell'allenatore e cerchiamo sicuramente di metterlo in pratica. La più grande dote di Ariano Danigari, che ha una grandissima voglia e sul campo sicuramente ci farà divertire. E se riusciamo tutti insieme, come abbiamo detto l'altro giorno, a essere uniti, secondo me, possiamo fare cose importanti. Il Ministro è la disposizione, se qualcuno deve fare qualche domanda, il Presidente, il Ministro. Se forse... Il Ministro è il Presidente, il Presidente, il Presidente, il Presidente e i tutti i dirigenti per avermi fatto questa proposta. Spero di fare un po' di un'idea di questa città e di questa città fascistica. Per quanto riguarda il credo fascistico, con il Presidente, si dovrebbe dire perché è quello che inizia, il partito, i campionati, comunque sia quello che loro vogliono. Non è facile parlare di credo fascistico. Mi piace, se qualcuno vi conosce lo sa, fare un grande squadra per proporre un suo po' di gioco, per cercare di essere più bravi gli altri in campo. Ecco questo, a me piace. Poi, parlare di credo e filografie nel nostro calcio è abbastanza particolare. a me piace per la mia squadra, cercare di andare in campo del gioco, cioè un gioco, una forma forte di gioco. Il tema tattico è quello di essere più bravo dall'altro. Io credo che nel calcio ogni cosa sia tattica, ogni scelta che si fa sia tattica. quindi non è così facile dire tatticamente come si recupera, al di là del fatto che dovremmo vedere magari che tipo di squadra avremmo, che tipo di squadra avremmo in situazione, c'è tante altre cose. Ripeto, il calcio lo vedo come una sfima fra due compagini e a me piace sempre che la mia si riprova all'altra. Luigi Gadini, potere del giorno. Lei ha allenato la Chialentina, gli ultimi due anni, sì. è pronto, insomma, ha gli stimoli per tornare ad allenare i vecchi, tra virgolette, dopo aver lavorato con i giovani? Io credo di avermi più di prima per tante ragioni. A un certo punto, dopo Reggio Emilia, dopo 20 anni a Reggio, avevo fatto una scelta di tornare a lavorare con i ragazzi, al di là che poi la Fertina me la chiedeva nella primavera, che quindi già un certo tipo di calcio si può fare. E in questi due anni credo di aver accumulato molti più stimoli di quelli che avevo prima, magari di quelli che avevo dopo 15 anni che avevo le serie C. E questo è sicuramente la risposta positiva, sì. E il fatto di lavorare a Taranto? Poi gli stimoli a Taranto non possono mancare. Posso capire che quando allenavo il Brescello, è un paesino di 3.000 abitanti, al di là che per me è indifferente, perché il calcio è il calcio, la squadra si avverrà sempre la stessa maniera, però è chiaro che Taranto gli stimoli di data sforza. Una città, per anche come questa, con una grande voglia di fare bene chi sia qui, è chiaro che uno deve avere quel sforzo, ma gli avevo comunque. L'obiettivo di quest'anno, il Presidente, sarà piuttosto chiamato, non? Tanti subito. Bene, come sarà l'obiettivo di tanti d'altra squadra? Non ci proviamo. Alla trentaquattresima giornata. Qui subito. Qui subito alla trentaquattresima giornata. È importante, perché può darsi che qualcuno ha frainteso dopo due giorni. Fulvio Maglialungo, Corriere del Giorno. Grazie a te lo sforzo. Tornando proprio all'obiettivo, il Presidente ha detto che vuole arrivare in B, ovviamente alla trentaquattresima giornata, senza dare alternativa al primo posto. Per un allenatore è facile partire così? No. Ma è anche più chiaro. Io ho lavorato con tante squadre che prendevano in giro tutti, nel senso che prendevano me. Io ero uno che ho sempre lavorato molto con i giovani. Mi interessava fare calcio, mi interessava valorizzare i propri giorni, mi interessava fare un campionato onorevole. tra virgolette. Qualche l'una per salvarsi, qualche un'altra magari un po' di più. Però poi quando le cose non andavano bene, perché si facevano giocare squadre di meno, tra di 19 anni, magari fai fatica, durante il cartonato paghi sempre, no? Tanto vale pagare per qualcosa di importante. per un campionato, per una squadra veramente combustiva, per un campionato obiettivo. Io poi credo, che l'ho detto prima, magari il Presidente si arrabbi un po', però credo che saranno più di una squadra che vorrà vincere, la battaglia sono quella, però è il nostro obiettivo e è quello che è anche il grande stimolo che uno ha dato. Ha parlato con il Direttore a confidità di due, per una risposta. Abbiamo parlato, sì, senza niente, ancora di dettagli, le ritrovi, ma sicuramente c'è un piano, di un grande giugno che fa. Sì, c'è chiaro che la sua è ancora terminato il campionato scorso, è chiaro che tal, credo da oggi si comincerà a una squadra che comunque è fortissima, cioè, magari sarà la miglioranza, se è possibile, ma tutto quello che sarà calcio inizia a parlare oggi. Ecco, lei ha voglia di partire anche dalla squadra attuale? Ha una, ha un'idea sicuramente. Questo è forte, il signor Papagli, il ministro, che prima ha fatto un lavoro straordinario, secondo me, anzi, credo che sia stato un lavoro veramente di grandissimo livello, la nostra squadra è molto competitiva, però, come ripeto, non abbiamo parlato nei dettagli, parleremo, oggi poi vedremo di verificare un po' quello che c'è da fare. Conosce qualcuno qualche ragazzo lo conosco, un ragazzo che non l'avendo letta perché qualcuno ha la sua età, anche se magari due anni o tre, due anni che sono fuori dalla Serie C, facendo la prima che aveva parlato a Firenze, qualche nome non lo ricordo ancora, però io, come allenatore, a me piace conoscere quando gli avevo, conoscerli giocando di giocare o leggendo i giornali o sentendoli o sentendo parlare gli altri ha un valore, conoscerli sul campo con te né a un altro questo che ho voglia di cominciare a fare, conosce di me su quali punti principalmente avete ragionato questo intento? Su che cosa vi siete trovati sulla stessa mondiazza dianda rispetto alla società? Io parlo per me, io lo so per loro, io sono stato colpito per la prima volta in tanti anni dalle poche manfrine fatte dal nostro Presidente, questo non mi ha chiesto 3.000 cose e questa una non mi era mai capitato sono sincero io lo so se qualcuno mi conosce sono sempre stato quello che ha preso le squadre per valori fare i giochi per salvarsi per tamponare per fare i giochi anche se poi alla fine era molto ipocrisia anche quella lui mi ha detto che vuole vincere e dobbiamo far di tutto per arrivare a vincere e una volta ogni tanto anche a me piace dire e allora questo è stato per me un fattore importante poi perché loro mi abbiano contattato io questo vorrebbe che loro Presidente appunto perché avete pensato a Cadregari e poi se non senti un dettaglio che tipo di anche quello di Cadregari ha fatto l'accordo di un anno sì per un anno come tutti perché è giusto che sia così come voi conoscete il mio credo significa che la gente deve rimanere è obiettivo ovviamente sempre gli obiettivi non conmanco anche con il mister ovviamente voi conoscete quello che io credo sono quei paletti importanti che fanno parte dello stile Taranto della mia vita poi tra parentesi sicuramente